Noi siamo contenti come Movimento 5 Stelle che finalmente ci sia stato dato un chiarimento un po' su qual è la linea del Ministero sui servizi aggiuntivi, quali sono i passi che vorrà fare il Ministro Franceschini. Però la nostra posizione politica sul tema dei servizi aggiuntivi è molto chiara. Noi pensiamo che la bigliettazione, che è un servizio molto semplice da poter gestire internamente, vada internalizzato come servizio perché garantirebbe un introito molto significativo allo Stato e quindi possibili ricadute di investimenti nella cultura. Non possiamo lasciare un servizio che tranquillamente operatori assunti dal Ministero potrebbero svolgere debbono essere esternalizzati. Noi pensiamo che tutti gli altri servizi aggiuntivi dove ci vuole magari competenze che non sono all'interno del Ministero possono essere messi a bando, ma non certamente questo servizio che garantisce un introito eccessivo al privato che fa veramente poco con risorse che potrebbe gestire Rossaso. Vedo che annuisce Franceschini, quindi cerchiamo di arrivare verso un punto d'incontro su questa linea e facciamo un bel servizio al Paese nel campo della cultura e del turismo.